Per introdurre il discorso di oggi, come diceva Alberto, abbiamo deciso di partire da alcuni numeri e in particolare abbiamo scelto una survey che forse molti di voi conoscono, che è quella di Gallup, che è un ente che si occupa di misurare tutta una serie di indicatori legati alle tematiche people a livello globale. E ci siamo focalizzati un po' su quello che sono i numeri relativi al tema dell'engagement, che è fondamentalmente quello che si cerca di fare quando si parla di marketing applicato certamente al mondo consumer, ma anche a quello delle persone. Per capire un pochino ma gli dati abbiamo messo insieme un riepilogo di quelle che sono le domande, nella slide che adesso vedremo, di quelle che sono le domande che Gallup fondamentalmente fa e che investiga tre aree principali, che sono quelle diciamo del quanto è significativo il mio lavoro, proprio meaningful, quanto è significativo il mio lavoro e quanti strumenti ho per poterlo fare e a questo rispondono per esempio domande come la 2, i materiali e le attrezzature necessarie per svolgere il mio lavoro, piuttosto che mi viene data l'opportunità di fare effettivamente ciò che fa, che mi viene meglio, che faccio meglio. Un'altra area investigata è quella diciamo tutto del riconoscimento sia dei miei risultati che di me come persona, quindi la 4 per esempio negli ultimi 7 giorni ho ricevuto riconoscimenti o lodi per aver fatto un buon lavoro, piuttosto che la 7 al lavoro le mie opinioni sembrano contare, quindi quanto è significativo il mio lavoro, quanto sono significativa io come persona all'interno dell'organizzazione e quanto oltre al presente si parla del mio futuro e quindi tutta l'area diciamo dello sviluppo e del mio progresso di carriera, quindi domande come la 6 per esempio al lavoro ho qualcuno che incoraggia il mio sviluppo piuttosto che la 11 ho parlato, qualcuno ha parlato con me del mio progresso, del mio step prossimo di carriera. Investigando queste aree vediamo poi una super sintesi dei risultati nella slide successiva che fondamentalmente ci dicono qualcosa che a livello empirico già molti di noi sanno e vivono nelle aziende, cioè che le persone, in particolare quelle disingaggiate, stiamo guardando qui, ma in generale le persone hanno molto chiaro che cosa rende un posto di lavoro migliore rispetto a quello che trovano oggi. È un dato che secondo me è sorprendentemente interessante è che il 41% di queste iniziative ha a che fare con l'area engagement and culture, quindi come spesso ci diciamo noi HR professional, sicuramente la parte di pay and benefits gioca un ruolo perché anche qui ha un 28% di voti in termini di che cosa va migliorato, però non è il pezzo che ha il maggior peso ed ha la maggior rilevanza nella quotidianità delle persone. Un dato ancora più interessante secondo me è che mediamente attraverso tutte le categorie delle persone che hanno risposto al questionario, quindi sia quelle disengaged che quelle neutre diciamo così per un secondo, che quelle molto engaged, un 51% delle persone è aperta a valutare altre opportunità fra quelle che sono semplicemente aperte e quelle che sono addirittura quelle che le stanno cercando attivamente un'altra opportunità. E questa media del 51% cala significativamente nel numero delle persone engaged perché vedete scende al 43% e aumenta significativamente nelle persone disengaged perché sale al 61%. Quindi dal punto di vista in generale dell'employee engagement, quello che ci dice la più recente survey di Gallup è che c'è una grande disponibilità delle persone, molto più che in passato, poi vedremo anche alcuni numeri sull'Italia, ad ascoltare proposte che arrivano ad altre aziende e chiaramente come è intuitivo, ma qui lo vediamo tradotto in numeri, questa disponibilità ad ascoltare diminuisce sui lavoratori engaged ed aumenta invece su quelli disengaged. Andando un pochino più nel dettaglio, nella slide successiva, vediamo anche una distribuzione geografica di questo engagement index e vediamo che, come diciamo molti di noi magari sanno perché hanno già lavorato in organizzazioni internazionali, quindi quando guardiamo una picture che è globale bisogna sempre stare attento che ci sono dei tratti diciamo culturali così del paese che influenzano il livello di engagement nel paese, per cui ci sono alcune culture che tendono a essere un po' più morigerate nei punteggi che danno e alcune culture invece che sono un po' più outgoing e tengono a dare voti più alti. Però comunque diciamo questo ci dà una fotografia del trend, vediamo che l'Europa in generale rispetto al resto del mondo, contro cui comunque tra virgolette combatti in un'ottica di attrazione e ricerca dei talenti, il livello di engagement è mediamente diciamo più basso e di questo del cluster diciamo europeo fa parte in particolare anche l'Italia che non si distingue diciamo da questo punto di vista in termini di performance. Se facciamo uno zoom nella slide successiva un pochino più di dettaglio sui numeri e guardiamo proprio l'Italia, quindi siamo partiti da numeri globali, stiamo scendendo diciamo a livello del nostro paese, vediamo che su tutti e tre i cluster, quindi le persone che Gallup considera super engaged e loro li definiscono thriving at work, le persone che invece stanno attivamente cercando un'altra posizione da qualche altra parte, quindi sono disengaged e loro li definiscono loud quitting e tutte le persone che stanno in mezzo che definiscono diciamo quiet quitting, quindi sto faccio il mio ma non molto di più, vediamo che l'Italia ha diciamo in tutte e tre le aree risultati peggiori rispetto a quelli sia dell'Europa che gli indici globali, per cui solo il 5% della workforce in Italia è risultata actively engaged, il quiet quitting ha una pancia significativamente più larga rispetto all'indice global perché al 72 verso il 59 e la coda di quelli delle persone disengaged dell'out quitting stanno attivamente cercando un'altra diciamo posizione, una coda piuttosto corposa perché è il 24%. Se guardiamo ancora più nel dettaglio all'Europa e all'Italia e alla sua storia nel tempo, vediamo che questo trend è peggiorato nel corso degli anni, qui vediamo dei dati sempre presi da Gallup, quindi sono dati molto comparabili tra di loro perché la base del questionario è la stessa, vediamo che nel tempo il cluster delle persone non engaged è andato aumentando, il cluster delle persone engaged è andato diminuendo in maniera diciamo costante nel tempo e il cluster, la pancia diciamo delle persone che sono neutre invece è aumentato anche quello. Quindi non è un momento, i numeri che abbiamo visto prima relativamente all'Italia non rappresentano un momento, non ci si può dire che è solo dovuto alla conseguenza magari del rientro post pandemico, della pandemia che è inciso in un qualche modo su tutta una serie di cose, è un fenomeno che ha radici lontane, ultradecennali, sono ormai quasi 12 anni che questo trend c'è ed è costante senza sostanzialmente significative inversioni di tendenza. Questo diciamo quello che succede lato employee, mentre nella slide successiva guardiamo un attimo, ci mettiamo il cappello, quello che tante volte magari ci viene anche più semplice, in testa è il cappello delle aziende. E cioè in questo contesto di, chiamiamolo un po' generale disaffezione magari, nei confronti del contesto corporate, del contesto aziendale, che cosa stanno cercando le aziende? E qui c'è una lista sempre presa, diciamo da un report del World Economic Forum, il più recente diciamo che è stato distribuito, che dice quali sono le competenze, artitudini, che prevalentemente le aziende cercano a livello globale. Vedete che c'è un marcatissimo trend di quello che le aziende cercano, e questo significa questo, che sostanzialmente tutte le aziende appartenenti a settori diversi, a geografie diverse, sono tutte concentrate nel cercare le prime 5-6 competenze. Quindi da un lato tutte le aziende che hanno bisogno delle stesse skill, dall'altro un contesto in Italia, diciamo di disengagement rispetto al mondo corporate, quindi come risolvo questo puzzle dove ho assolutamente bisogno di cercare, quando ritrovo di trattenere le persone che hanno queste skill, ma di là mi trovo una popolazione di employee che non è facilmente né attraibile né trattenibile. Nella slide successiva vediamo sempre dall'analisi di Gallup quali sono le strategie che le aziende stanno cercando di mettere in essere per contrastare questo fenomeno e quindi cercare di attrarre le rare skills che tutti cercano e cercare di trattenere queste persone con le loro skills una volta che sono andate a bordo. Ci sono tantissime iniziative che spazzano in tanti settori, che vanno da tutto l'ambito della sfera della carriera e di qual è il processo di carriera che offro all'interno dell'organizzazione, senza che questo necessariamente significhi carriera verticale, può avere tantissime declinazioni in diversi contesti organizzativi. Sicuramente c'è un tema di compensation, quindi cercare di offrire pacchetti che siano più competitivi, che però sappiamo è una leva che non si può tirare all'infinito perché c'è anche un grande tema di sostenibilità del conto economico e in particolare di produttività, in particolare nel nostro paese. Sicuramente c'è un grande sforzo sia organizzativo che economico che le aziende fanno nel cercare di costruire internamente quelle skill che abbiamo visto prima, di non comprarle solo fuori sul mercato, però se guardiamo un pochino più nel dettaglio, stando sempre nella colonna di sinistra, che sono le aree di impatto più, diciamo, perseguite dalle aziende, c'è tutta un'area che ha a che fare con il mondo del marketing in HR, no? Quindi quando parliamo di come articolo, cioè come spiego alle mie persone qual è il purpose del mio fare business, del mio esistere come corporate e che impatto ho io sul mondo, non soltanto, diciamo, qual è l'ultima, l'impatto che genero sull'ultima riga del mio conto economico, piuttosto che tutto il tema della comunicazione interna, no? E le strategie legate alla comunicazione interna che vanno verso una direzione della cultura, della trasparenza, della collaborazione, dell'apertura nei confronti dei propri dipendenti e tutto il tema grandissimo della DEI, no? Diversity Equality Inclusion, quindi come crea un ambiente di lavoro che sia in grado di attrarre i talenti che hanno quel tipo di competenze e trattenere i talenti che hanno quel tipo di competenze del cui ho bisogno, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano anche caratteristiche di genere, piuttosto che di etnia, piuttosto che di religione, che devo creare un ambiente di lavoro che sia compatibile per tutti loro ed inclusivo e non esclusivo, no? Sia perché, per tonare sulle parole di Alberto, è una cosa etica e giusta, ma anche perché non posso ridurre ulteriormente, se non lo volesse guardare solo in maniera opportunistica, ridurre ulteriormente la mia disponibilità di talenti perché non sono in grado di attrarne alcuni che magari non si sentono inclusi o rappresentati nel mio contesto organizzativo. Questo ci dice, se proseguiamo nel ragionamento, che ci sono fondamentalmente attorno al nucleo people tre grandi dimensioni che dobbiamo in un qualche modo far coesistere e tre grandi tematiche, quindi quella della diversity inclusion di cui abbiamo appena parlato, quelle di new ways of working, perché comunque, ecco, anche la modalità del webinar di oggi è una testimonianza, abbiamo tutti imparato a lavorare anche in un modo diverso, che ha un impatto sulle strutture organizzative e sulle skills di cui le persone hanno bisogno. Se avete notato prima, fra le prime top 5, ci sono tutte le skills legate, diciamo, alla digital agility, al digital mindset, no? Non soltanto per fenomeni giganteschi come l'artificial intelligence, ma anche per cose più semplici come quella che stiamo facendo noi oggi. E tutto il tema del value e del purpose, cioè perché io sono qui proprio specificatamente in questa organizzazione e tua organizzazione, tua azienda, perché esisti e qual è il tuo contributo, diciamo, al mondo, al di là della tua linea di profitto che giustamente, legittimamente devi fare.